C'è anche una donna di nazionalità ucraina tra le affiliate all'Andrangheta Lametina che hanno deciso di collaborare con la giustizia. Lo rivela la testata online alla Mezzia Oggi in un articolo a firma di Giuseppe Natrella. Si tratta di Natalia Gordichuk, 38enne, che portata dietro le sbarre nel 2011 nell'ambito dell'operazione Underod che fece emergere un'associazione mafiosa che contava esponenti ucraini e lametini, si è pentita dopo che il suo compagno Matteo Vescio iniziò a collaborare con la giustizia. I verbali con le sue rivelazioni si ritrovano nei fascicoli dell'operazione Andromeda che ha disarticolato la cosca Iannazzo. Pur non avendo rapporti diretti con il clan, la Gordichuk riporta il sito e ha raccontato di avere nel 2010, per conto di Pietro e Vincenzino Iannazzo, accompagnato il compagno a Mileto a prendere delle armi e a svolgere mansioni inerenti estorsioni a pulman ucraini. La donna avrebbe anche più volte chiesto a Matteo Vescio di abbandonare le frequentazioni con gli esponenti del clan, ma senza successo, visto che il compagno le avrebbe riferito di non poter uscire dal giro e di essere costretto ad andare avanti. Al momento dell'arresto l'Ucraina venne contestato di far parte di una banda ben organizzata che imponeva il pizzo ai utisti dei pullman che facevano la spola con l'est Europa.